E' scaricabile in formato pdf dal sito www.cr.piemonte.it nella sezione pubblicazioni Il fascicolo Ciac Piemonte, la commedia all'italiana, realizzato da Consiglio regionale in collaborazione con Ajace. La pubblicazione presenta una selezione di 100 titoli di commedie girate in Piemonte, terra di nascita o di adozione di numerosi grandi talenti della cinematografia italiana.